Il tema del controllo del territorio è una piazza contro la camurra, contro la violenza, contro il bullismo e noi continueremo a fare il massimo siamo quelli che abbiamo cacciato la camurra dai palazzi della politica siamo quelli che ci schieriamo senza tentennamenti siamo quelli che contribuiamo insieme a tantissimi all'antimafia sociale dei fatti però per lo Stato chiediamo di controllare maggiormente il territorio perché quando si spara non puoi chiedere allo studente, al parroco, all'associazione o all'insegnante c'è bisogno di polizia, carabinieri e forze di sicurezza per prevenire e reprimere